Io come Falchi non siamo dei tecnici, io e spero come Falchi, però facendo politica dobbiamo dire qual è la nostra visione di sviluppo e sull'aeroporto io sono stato molto chiaro e continuo a essere chiaro, voglio chiudere l'attuale pista che impatta tanto e non aiuta né Firenze né la Toscana, non aiuta i privati che gestiscono l'aeroporto a sviluppare lo scalo. Penso che anche Falchi abbia questo input, lo ha detto in varie interviste, non è contro la chiusura dell'attuale pista. Io ho chiaro che non essendo un tecnico, dico ai tecnici, diteci qual è la soluzione migliore, convergente, divergente, moderatamente obliqua, di 4 gradi, guardi io non amo la geometria, ci dicono i tecnici qual è la soluzione migliore, però rimanere così com'è no, no non è possibile. Falchi è andato a quella scena, io non c'ero, se c'è andato avrà voluto dire sono pronto a dialogare, a trovare un compromesso che non è una parolaccia, una mediazione. C'è andato, ha argomentato successivamente in varie interviste perché c'è andato, ha difeso la possibilità di trovare una soluzione intermedia e poi mi sembra che si stia rimangiando tutto. Capisco, fa parte di sinistra italiana, di una sinistra che da sempre è avversa a qualsiasi tipo di soluzione, allora mi chiedo perché c'è andata quella scena? Perché magari altre volte ha partecipato a delle riunioni per trovare una soluzione intermedia. Io non è che non mi fido, leggo le dichiarazioni e sto ai comunicati stampa, però la politica non si fa con i no e non a caso noi abbiamo avuto il coraggio sei mesi fa in campagna elettorale di presentarci da soli a Sesto Fiorentino, a differenza degli amici del Partito Democratico, perché abbiamo tenuto a ribadire il concetto che le infrastrutture sono utili, che con i no a prescindere a priori non si va da nessuna parte.